Siamo a Licia, alla Sacra della Ventricina, organizzata dall'associazione Il Castagno, di cui Sabrina è una dirigente e ci illustra, noi siamo proprio all'inizio dell'area dedicata a questa festa che poi è il centro del paese. Sabrina adesso ci illustra come si svolge questa festa a partire proprio da qua, dal primo punto. Allora, innanzitutto benvenuti alla quinta sagra della cosiddetta Mischiche e Pane de Case. Mischiche perché voi a Licia la chiamate così? Perfetto, la Mischiche non è altro che il tipico salume liciano, la ventricina liciana, accompagnata da pane casereccio, tipo casereccio. La gente che arriva, innanzitutto siamo alla quinta edizione di questa sagra, organizzata appunto dalla società Il Castagno, un'associazione Il Castagno. La gente che arriva qua trovate? Perfetto, sì, qua siamo alla cassa, quindi l'inizio, la gente viene, fa il biglietto da noi, la gente che arriva può degustare qui, quindi ci sono dei vassoi che comprendono ventricina, un duetti di ventricina, pane casereccio, insalata di pomodoro, oppure panini con ventricina o con lonza, anche la lonza è una nostra specialità, tutte e due fatte da noi, sia la ventricina che la lonza, e poi bevande varie. La gente che arriva va in piazza, c'è il clou, diciamo il cuore della festa, ci sono tanti tavoli messi a disposizione dal castagno, in cui ci si può appunto sedere e degustare i nostri prodotti tipici. Quest'anno è la prima volta che abbiamo fatto anche uno stand appositamente fatto di ventricina e sottovuoto, di chi ha intenzione di portare via questo salume, insomma la ventricina o la lonza, trova uno stand appositamente fatto di ventricina e sottovuoto, già tutte preparate, appositamente da portare via. Sabrina, sono le sette, andrete avanti fino a notte inoltre? Tardanotte c'è un'orchestra messa a disposizione dall'associazione, Fabrizio Maciotta, che tra l'altro è un nostro concittadino, sì, compaesiano, e niente, allieterà la nostra serata fino a tardasera, oltre mezzanotte, sperando che la gente collabori e che balli e quindi ci sia proprio un clima di festa. Ora invece Irene ci spiega la procedura con cui vengono fatti questi due salumi, abbiamo detto la ventricina o miscic, come la chiamate voi allicia, in dialetto liciano, e la lonza. Partiamo Irene dalla lonza? Sì, allora praticamente la lonza sarebbe il lombo del maiale, il pezzo del collo del maiale tagliato intero, con un pezzetto di grasso per mantenere morbida la carne e viene praticamente messo soltanto del sale per mantenere la carne, proprio per fare questo tipo di salame, e viene essiccato in modo naturale con dei braceri o comunque con del fuoco. e niente, poi viene affettato e dopo alcuni mesi di stagionatura può essere tranquillamente gustata. È ottima e diciamo che il sapore è tipo un crudo, comunque è carne essiccata cruda. Ed è buona. Ora passiamo invece alla ventricina, i cui procedimenti di lavorazione sono abbastanza noti, però ripetici e magari facciamo anche un paragone sulle procedure tra la ventricina e la lonza. Sì, praticamente la ventricina è fatta sempre con le parti più pregiate della carne di maiale, viene tagliata a pezzi, sempre fatta tutto a mano con coltello. I pezzi di maiale, di carne, li facciamo abbastanza grandi, proprio per far intrecciare tra di loro questi pezzi per meglio tagliare. Poi la carne viene aggiustata con del sale, peperone, sempre fatto da noi, e viene praticamente insaccata nelle budelle di maiale. Praticamente viene avvolta in dei veletti, in dei veli viene legata con dello spago comunque inserita nella rete, mentre la ventricina viene insaccata nelle budelle proprio di maiale, nelle vesciche, e viene fatta lo stesso essiccare in modo naturale come la lonza. Se voi ci spalmate lo strutto, lo vediamo? Sì, sì, ecco, come si vede qui, sempre con lo strutto sciolto del maiale, quando c'è stata un po' di essiccatura della carne, dalla carne, poi praticamente questa è tutta, cioè la facciamo in modo naturale, non è che abbiamo comunque dei tempi nostri, poi dipende molto dal clima anche. Brava Irene, hai toccato l'argomento che avrei voluto chiederti. Allora, il maiale viene ammazzato nel periodo più freddo dell'anno, tra dicembre e gennaio. La procedura che tu prima dicevi di essiccazione e di stagionatura, quanto dura e fino a che periodo arriva? Oddio, noi non è che abbiamo dei tempi predisposti o comunque fissi, facciamo tutto in modo naturale e controlliamo questa carne, questa essiccatura giorno per giorno, perché non è che usiamo conservanti, cioè è fatta proprio in modo del tutto naturale. E li mettete nelle cantine, cioè dove il clima è freddo e fresco? Siccatura sì va in cantina, però dipende tantissimo anche dal clima, ad esempio se è un clima abbastanza freddo e secco, la siccatura avviene prima, mentre con un clima umido, quando c'è nebbia, ad esempio bisogna stare molto attenti perché il salame può andare a male. Senti, è una leggenda che a questo salame, parliamo della Vendricina, non della Lons, è addirittura utile il fumo interno dei focolari e che questi appesi poi lì nelle case vecchie ricevono questo fumo e in qualche modo centra il fumo nell'essiccatura. Diciamo che il fumo c'entra però relativamente perché dipende se si vuole fare un salame affumicato, una pancetta affumicata. Noi usiamo soprattutto il calore naturale della legna, cioè praticamente l'abbraccio, il fuoco proprio naturale. Il fumo no, praticamente il salame vuole proprio il calore, il caldo asciutto del focolare, cioè proprio come si faceva prima e noi così lo facciamo per avere proprio una buona stagionatura.